E' un Inter, quella di oggi che se avesse vinto avrebbe dormito da prima da capolista del campionato ed è strano dirlo dopo due giornate però oggi pomeriggio c'erano due gare di cui una Lazio-Torino che poteva individuare un'altra co-capolista invece si sono annullate 0-0, ne ho parlato sul mio secondo canale Simone Sikwolf seguitemi se non lo fate, ve lo lascio in alto nelle schede mentre l'Inter era l'unica realmente che vincendo avrebbe dormito da capolista l'Inter vince, batte lo Spezia, dorme da capolista, è presto per parlarne, è inutile parlarne adesso ma ne parliamo soprattutto dell'Inter, della prestazione dell'Inter, di come ho visto l'Inter e di quello che mi sta sembrando quest'Inter prima di tutto però vi invito a fare una cosa, in descrizione vi lascio il link questo link è il link di numero 10 se voi scaricate l'app dal mio link, quindi dovete scaricarla dal mio link e vi iscrivete all'app, mettete la squadra che ti fate c'è possibilità che vinciate la maglietta della vostra squadra del cuore quindi magari l'Inter come vedete qua, o la Roma, anzi la Roma è sempre di qua potete vincere la maglietta della vostra squadra del cuore oppure vincere due biglietti per andare allo stadio completamente gratis quindi non dovete fare nient'altro che scaricare l'app, scaricatela iscrivetevi perché se no non vi possiamo individuare e poi appunto mettete la vostra squadra del cuore e sarete iscritti e avrete la possibilità di vincere detto questo l'app è in descrizione, parliamo della partita è una partita che secondo me va analizzata prima di tutto a livello tattico è uno spezia che si sta ricostruendo è uno spezia che l'anno scorso secondo me modesto parere mio aveva fatto molto molto bene con Tiago Motta e poi non si sa perché per tutto l'anno la società spezzina ha minacciato Tiago Motta di esonero guarda che tesonero, guarda che tesonero, guarda che tesonero dalla fine dell'anno esonerato, a fine anno dopo che li ha salvati quindi vabbè, chiamando Gotti è arrivato Gotti sulla panchina dello spezia Gotti è uno che studia ragazzi io lo continuerò a dire Gotti è un allenatore che studia che a casa si fa un culo così senza che voi ve ne accorgiate e che poi riesce a metterti in difficoltà infatti nei primi 10-15 minuti e gli interisti se ne saranno accorti l'Inter è andata in difficoltà non tanto in fase difensiva dove lo spezia ha fatto molta fatica a produrre gioco lo spezia mancano anche degli attaccanti mancano anche dei calciatori validi qualcuno insomma è fuori ai box qualcun altro arriverà a fine mercato poi lo spezia ha avuto anche un anno di mercato anzi sei mesi in realtà di mercato bloccato però questo conta relativamente poco vi dicevo Gotti riesce a mettere in difficoltà l'Inter quando attacca l'Inter perché l'Inter gioca palla a terra giocando palla a terra cerca gli inserimenti continui di Lukaku, di Lautaro e dei quinti di centrocampo si gioca molto sulle due fasce da una parte e dall'altra il match tranquillamente possiamo dire che si fa sulle due fasce di solito i match si fanno a centrocampo questo invece si gioca sulle due fasce larghe l'Inter prova gli inserimenti perché Gotti dico che riesce a bloccare l'Inter? perché ogni volta che l'Inter va in verticale fuori gioco fuori gioco fuori gioco è intelligente Gotti perché probabilmente ha studiato l'Inter perché probabilmente ha studiato Inzaghi ha studiato Lukaku ha studiato Lautaro sa come giocare all'Inter e quindi la previene invece che cercare di curare previene la situazione e quindi l'Inter per i primi 15 minuti fa una fatica clamorosa avranno fatto 7-8 fuori gioco in 15 minuti qualcosa di pazzesco perché Gotti mette la difesa dello Spezia praticamente a centrocampo la linea difensiva è altissima l'Inter gioca palla a terra cerca il fraseggio solo quando il fraseggio è veloce l'Inter riesce ad arrivare in porta quando il fraseggio è lento quando fa più fatica nel palleggio a trovare gli spunti allora devono ricominciare e allora quando il fraseggio è più veloce l'Inter riesce anche ad arrivare al cross lì dove il pallone si alza lì dove le occasioni per i nerazzurri aumentano drasticamente vi dico chiaramente l'Inter contro il Lecce non mi era piaciuta ma ve l'avevo già detto ne avevo parlato in un video dedicato non mi era piaciuta per niente l'Inter che avevo visto contro il Lecce tant'è che a un certo punto ecco io non me ne vogliono gli interisti in quell'occasione preferisco definire più che l'Inter caparbia Inzaghi fortunato perché per me Inzaghi ha fatto una cosa che non si fa mai poi ovviamente io sono qui davanti ad un microfono davanti ad una telecamera a parlare Inzaghi ad allenare quindi Inzaghi saprà sicuramente tutto più di me però per me Inzaghi ha fatto una cosa che non si fa cioè ha inserito in campo quattro attaccanti contro il Lecce ve ne avevo parlato anche in quell'occasione lì quattro attaccanti non vuol dire che segni quattro attaccanti vuol dire quattro uomini che si pestano i piedi vuol dire quattro giocatori che cercano il gol disperatamente vuol dire che togli due uomini in costruzione io su questo mi lamentavo tantissimo con Di Francesco Di Francesco era un allenatore che quando la Roma stava perdendo levava due centrocampisti e metteva due attaccanti giocavamo con il 4-2-4 e perdevamo due uomini in costruzione quando la Roma stava vincendo invece levava la punta di riferimento e metteva un centrocampista così facendo toglievi la punta di riferimento il punto di riferimento cioè la punta l'attaccante che tecnicamente in una squadra sana dovrebbe tenersi il pallone e quindi il gol alla fine lo prendevamo ecco non mi è piaciuto quello che aveva fatto è vero che era un tutto per tutto perché poi Inter Lecce però in quel caso non mi era piaciuto oggi Inzaghi mi è piaciuto io dico le cose come stanno oggi Inzaghi mi è piaciuto e mi è piaciuto perché oggi secondo me l'ha vinta con intelligenza ha vinto anche quella con il Lecce oggi l'ha vinta con intelligenza l'intelligenza arriva quando si rende conto che il suo solito modo di giocare non sta andando bene perché Gotti se l'ha studiato per bene perché Gotti se l'ha studiato a puntino e allora che fa? rivoluziona completamente è un Inter che rispetto ai 15 minuti i primi 15 minuti di quello che vediamo dopo cambia completamente ragazzi l'Inter cambia completamente quindi non si va più a cercare la punta ma le punte vanno in profondità ma non a prendere il pallone ad allontanare i difensori centrali Nicolau e quell'altro i difensori centrali così facendo sono costretti a seguire gli attaccanti perché ovviamente a meno che non li mandi in fuorigioco se giocano se non è il fuorigioco e si allungano e si allungano e si allungano e si allungano tu sei costretto a stargli dietro fanno spazio creano spazio in mezzo al campo per gli inserimenti dei centrocampisti dell'Inter di Gianoglu di Barella che storicamente lo sappiamo e ovviamente in modo classico classicone si inseriscono tranquillamente appunto a cercare il gol non è un caso che il secondo gol nasca proprio così ma adesso ne parliamo e quindi l'Inter smette di giocare tra l'altro palla a terra e gioca alla ricerca di alla ricerca di il pallone si alza gli spazi si creano in mezzo al campo e soprattutto quando l'Inter è rodata riesce a fare entrambe le cose tipo nel caso dell'1-0 dell'Inter perché dico questo? perché Lukaku scappa scappa Lukaku Lautaro non segue Lukaku ma si sgancia dietro un po' come se fosse il centrocampista di turno si inserisce nello spazio che ha creato Lukaku ma la valla va Lukaku quindi i difensori seguono Lukaku Lukaku fa la sponda di testa arriva Lautaro che impatta ed è gol 1-0 il gol del vantaggio dell'Inter per me è esattamente creato a puntino da chi l'ha studiato dall'allenatore che l'ha studiato e in generale comunque lasciatemi dire che l'ho trovato molto simile perché comunque il 2-0 è un'occasione in cui il palone è sempre alto resta lì poi batti e ribatti poi c'è la Noglu che si inserisce da dietro trova il gol del raddoppio subito inizio secondo tempo che è un gol che chiude definitivamente la partita la chiude definitivamente da lì in poi non c'è nemmeno più storia secondo me nemmeno più possibilità che lo Spezia rientri in partita e lo vediamo anche per quello che accadrà poi l'Inter successivamente fa dei cambi tipo leva Lukaku Dzeko leva Di Marco che giocatore che è Di Marco per fare entrare Gosens mette Gagliardini mette Correa insomma sul 2-0 la partita è bella che è andata e Inzaghi stava già pensando a quello che avverrà tra sette giorni e quindi per far riposare i giocatori voglio dire un'altra cosa voglio dire un'altra cosa perché? perché sul 1-0 l'Inter prende una traversa esattamente eseguendo quel diktat che vi ho detto precedentemente quindi che cosa fa? Bastoni lancia questo pallone fantasmagorico in area di rigore Lukaku fa si fa vedere ma invece che fare la sponda all'indietro stavolta calcia verso la porta e becca la traversa portandosi però sempre via i difensori e per me questa non è assolutamente una cosa di poco conto poi c'è gioia anche per Correa che trova il gol del 3-0 che chiude la partita è una gioia che ogni tanto ci va anche che vi dico l'Inter ragazzi doveva vincere quando l'Inter alza la palla l'Inter cambia la partita e io voglio fare i complimenti li ho già fatti ma li ribadisco ai zaghi e all'Inter perché hanno saputo cangiare hanno saputo cambiare in corso in corso d'opera l'idea di fare gioco riuscendo poi a vincere una partita che sulla carta io ve lo dico sempre ve lo dicevo anche sette giorni fa quando la Juventus ha battuto il Sassuolo 3-0 ho detto ragazzi tra tre mesi quattro mesi cinque mesi quando andrete a rivedere questa partita direte allora madonna aveva vinto 3-0 col Sassuolo ora lo Spezia non è il Sassuolo tra l'altro il Sassuolo non l'ho vista minimamente ma so che stava vincendo contro il Lecce 1-0 eccolo qua e ha segnato tra l'altro Berardi il solito Berardi che ha anche rinnovato ma di questo mi interessa parlare più della gara dell'Inter vi dico la verità però lo Spezia non sarà il Sassuolo però lo Spezia è una squadra con la quale poi dovrai scorticarti i punti quando sarai lì a lottare per non retrocedere perché lo Spezia poi quando lo trovi a inizio anno magari ci vinci tranquillamente e te la metti via quando inizi a trovarlo a fine anno fatemi dire che te pesa un po' di più che la fatica di doverlo battere secondo me cresce a dismisura rispetto a inizio anno quindi non vi pensate questi sono tre punti secondo me fondamentali per l'Inter e probabilmente arrivate in un altro momento dell'anno sarebbe stato anche molto più faticoso l'Inter batte lo Spezia tre punti importanti stanotte l'Inter è capolista con sei punti però è capolista ha vinto le prime due ed è l'unica dopo sabato ad averlo fatto visto anche il pareggio tra 0-0 di 0-0 tra Lazio e anzi per 0-0 tra Lazio e Torino fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale tantissimi mi piace boccia la nalla e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao raga grazie a tutti